Dragon Ball Super. Ormai va in onda da più di due anni e mai come ora una serie di Dragon Ball è stata oggetto di aspre critiche, relative a formicoli alla schiena, ragazzini erotomani, livelli di forza che già non contavano una mazza a 25 anni prima ma che ora sono indispensabili, e soprattutto animazioni scrause e disegni scadenti. Uh, questa critica è sicuramente la mia preferita. Chi se ne frega se non si conosce la differenza tra disegni e animazioni, l'importante è detestare sempre e comunque, e in fin dei conti non è quello che conta alla fine. Beh, parlando seriamente, credo che questa serie non abbia iniziato nel migliore dei modi, sia dal punto di vista visivo che dei contenuti, poiché la scelta di riprendere le vicende degli ultimi due film è parecchio discutibile. Così come è discutibile fare un video in italiano dopo mesi, ma ho dei buoni motivi! Ad ogni modo, dopo un inizio molto difficile, la serie ha cominciato a decollare gradualmente, raggiungendo anche dei picchi più e più volte. Molto spesso rimango stupito dalla qualità dell'animazione e non può che farmi piacere vedere dei talenti valorizzati. Ciò nonostante, Super, come tutte le altre serie, non è perfetto e mi ha spesso fatto incazzare per alcune scelte, di nuovo come tutte le altre serie. Ad esempio, vi ricordate il primo episodio della serie Z? Circa 10 minuti di Gohan che fregna, che si perde nel bosco, che fregna, che viene inseguito da una tigre, che rischia di annegare, che fregna! Non mi ha neanche fatto piacere vedere il talento di Shida sprecato per una tale boiata. E poi c'è un alieno che arriva sulla terra a cercare il fratello, sì ma niente di serio. Ed è per questo che siamo qui oggi, per analizzare ciò che Dragon Ball Super è stato e ciò che è. Infatti parlerò dei vari archi narrativi di questa serie, valutando i contenuti di ogni episodio, ma posto che siamo su DB Animators, esporrò soprattutto il mio parere su animazione, disegni e storyboard, quando necessario. Quindi benvenuti a questa nuova serie dal titolo Dragon Ball Super, uno sguardo indietro. Oggi parleremo del primo arco narrativo, vale a dire il rifacimento del film La Battaglia degli Dei, con qualche differenza. Partendo dall'episodio 1, il cui titolo tradotto dal giapponese è A chi andrà la ricompensa per la pace di 100 milioni di zeni? Dal punto di vista stilistico è un episodio un po' ingannevole. Quando andò in onda su Fushi TV nel 2015, notammo che era supervisionato da Yuki Hiro Kitano, un volto nuovo per Dragon Ball. E la maggior parte di noi rimase colpita dal fatto che i personaggi sembrassero un model, quasi identici al modello di Tadayoshi Yamamuro. Credevamo fosse in gran parte merito di Kitano, ma in realtà il suo stile qui appare di rado. Diciamo che questo episodio funziona abbastanza bene grazie a degli animatori capaci di rispettare i modelli di Yamamuro e soprattutto grazie al capo supervisore, che è una figura indispensabile per Super. Takeo Ide negli episodi dispari e Miyako Suji in quelli pari, anche se nell'episodio 64 erano presenti entrambi, l'uno come capo supervisore, l'altra come animatrice secondaria. In questo episodio c'è Ide, uno dei veterani della serie. Si è sempre distinto per disegni poco sul modello ma attrettanto espressivi e animazioni passabili nelle vecchie serie che assumevano un livello ben diverso durante i film. Basti pensare alla morte dell'androide numero 13 o a quella di Broly nel suo primo film. Il capo supervisore deve mantenere una costanza nel disegno laddove il supervisore non ci sia riuscito per motivi di tempo. E in questo caso Ide ci riesce anche grazie al suo stile abbastanza versatile. In generale i disegni vanno bene, sono un modello e basta, non c'è uno stile che prevalga su tutti. Invece lo storyboard di Koshi Ogawa ha un forte impatto sull'episodio poiché gli dà un'atmosfera ben delineata. Per esempio la scena del dialogo tra Goku e Mr. Satan presenta un paesaggio davvero suggestivo, un tramonto con un forte contrasto cromatico, con l'arancione che lascia spazio a un cielo violaceo. Per quanto riguarda l'animazione segnaliamo la lotta di Goten e Trunks contro il serpente, probabilmente animata da Jininaba e Atsushi Nikaido, sebbene non ne sia molto sicuro. Ma l'highlight dell'episodio è sicuramente il segmento animato dal character designer di Dragon Ball GT, il veterano Katsuyoshi Nakatsuru. E ad oggi questa breve scena è il suo unico lavoro in questa serie, ed è anche l'ultimo in Dragon Ball fino ad ora perché sembra che non lavori più per la Toei. Qui la sua prospettiva a tre quarti è facilmente riconoscibile e si può notare anche la bravura di Ogawa nel rendere la scena più efficace possibile attraverso le reazioni dei personaggi. Però l'episodio in sé è abbastanza sottotono, sia la parte iniziale che quella finale sono accettabili, e presentano anche stralci di vita quotidiana dei personaggi, il che è un aspetto tipico degli episodi scritti da Fukushima. Infatti vi sono delle buone interazioni tra i personaggi, come quella tra Gohan e Bidel o Goku e Mr. Satan nella seconda parte. Nonostante tale premessa, il problema sta nella parte centrale. L'ho trovata banale e un tantino prevedibile, come tutte le storie con Goten e Trunks, quindi nessuna sorpresa. Non c'è niente di particolarmente interessante. La lotta col Serpente non era malvagia, ma neanche così eccezionale. Pertanto il mio voto è un 5+, non interamente insufficiente, ma neanche un buon inizio. Episodio 2. La vacanza promessa. Vegeta fa un viaggio in famiglia. Primo episodio supervisionato da Osamu Ishikawa e il primo corretto dall'altro capo supervisore, Miyako Sushi. Ed è anche il primo episodio con Autoshi Ishida in qualità di storyboarder. Non so neanche se si sta come parola, ma la uso lo stesso. Osamu Ishikawa è sicuramente uno dei più fedeli al modello di Yamamuro, anche nel disegnare male i nasi, ma come l'episodio precedente, anche qui il suo stile è ancora poco chiaro. Immagino che avessero stabilito ai vari supervisori di seguire il suo modello il più accuratamente possibile, almeno per i primi episodi, per poi seguire il proprio stile successivamente. Infatti i personaggi sono quasi sempre on-model e nel contesto appaiono comunque solidi. Sì, possiamo notare qualche tratto tipico di Ishikawa, soprattutto su Vegeta, come la proporzione strana dei capelli e le orecchie, ma per il resto spicca il tratto dei vari animatori e della Miyako Sushi. Lo storyboard è ideato da uno dei migliori professionisti della Toei, principalmente conosciuto per le sue animazioni, ma anche per storyboard molto efficaci. In altre parole, quando è ideato da Shida, è palese. A giudicare dai crediti, quest'episodio ha un numero elevato di animatori, di cui alcuni da studi diversi, come Yuikinoshita e Tomoko Kusunoki dallo studio Wompak, o Akiku Akano da studio Toki, ma anche alcuni che hanno collaborato in passato in Dragon Ball, come Naoki Mishiba e Yoki Kinoshita, e futuri supervisori come Hiroyuki Itai. Tuttavia, le scene d'azione principali sono state animate dai due accreditati in alto, ossia Yoki Hayashi e Naoki Tate. Il primo è un giovane animatore molto talentuoso sulla trentina d'anni, conosciuto per il forte impatto delle sue creazioni. Basti pensare alla scena in cui Vegeta fa il culo a Freezer nel film La Resurrezione di F, e in questo episodio troviamo la sua prima e ultima scena in Dragon Ball Super, quella del mostro sputafiamme dell'alieno che lo uccide. Non mi ricordo i nomi sempre che ce li abbiano. Purtroppo Hayashi non lavora più per la Toei attualmente, i motivi ancora non si sanno. Mentre il secondo animatore è uno dei veterani della serie, ex animatore di Seigasha e uno dei fuori classe della Toei. Naoki Tate è l'artefice della lotta tra Beerus e il coso alieno cinghiale, ed è facilmente riconoscibile grazie agli effetti dei lampi e dei raggi e alle esplosioni, con tanto di frame d'impatto. Non è la migliore del suo repertorio, ma è sicuramente agevolata da uno storyboard solido e con le palle. Per il resto, è sicuramente un episodio molto più interessante rispetto al precedente, perché Vegeta è inserito in un contesto per lui inusuale, cioè passare il tempo con la sua famiglia invece che allenarsi o combattere. Sì, verso la fine recita i soliti sermoni, e superare Goku, Vegeta, essere il numero uno dell'universo, bla bla bla... Ma è comunque un episodio gradevole. Recaio è uno stronzo, però. Quindi il mio voto è un 7. Netto passo avanti rispetto al primo. Episodio 3. Da dove viene il sogno? Alla ricerca del Super Saiyan God. Primo episodio del veterano Yoshitaka Yashima, e anche il primo ad essere interamente animato da Yashima stesso. Infatti, è l'animatore che tutti gli studi vorrebbero avere, per la sua esperienza e capacità di animare episodi interi senza particolari difficoltà di tempo. E al contrario di Kitano e Ishikawa, Yashima non è nuovo nell'ambiente Dragon Ball, poiché fu uno degli animatori dei film La Vendetta di Cooler e Il Super Saiyan della Leggenda negli anni 90. Egli è noto per uno stile appuntito, che a volte, nel corso dell'episodio, viene corretto dal capo supervisore d'animazione e dagli animatori secondari. In questo caso da Takeo Ide, Satsuki Aizu, il cui stile è quasi identico a quello di Yamamuro, ed è uno studio esterno Toy Philippines. Sull'animazione c'è quasi niente da dire. L'unica scena d'azione è l'allenamento di Vegeta, animato da Yashima e corretto da Aizu, e non è niente di che. Lo storyboard di Sato risalta molto gli sfondi, sono parecchio suggestivi, ma forse non sono stati sfruttati appieno. Per quanto riguarda l'episodio in sé, gli do un 5,5, perché non l'ho considerato così brutto. Più che altro mi ha lasciato indifferente, perché è come se stessi rivedendo i fatti del film La Battaglia degli Dei, anche se con qualche cambiamento, come il compleanno di Bulma festeggiato su una nave da crociera, o il recaio che fa lo stronzo, ha già successo anche nel film. Secondo me l'highlight è Piccolo, che riceve la foto del matrimonio di Gohan, e rimane di merda quando scopre che aveva tenuto gli occhi chiusi. È un momento innocuo e anche interessante, poiché anche Piccolo è inserito in un contesto per lui inusuale. E apro una parentesi. Io ho rivalutato molto Sumitomo come compositore, soprattutto dall'arco di Black in Poi. Le soundtrack delle prime saghe non mi dispiacciono, ci sono anche dei bei pezzi, come Virus Madness e Birth of a God, ma Like That Cloud non la sopporto. Quella che fa na 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 la sentiamo fin troppe volte, è un po' una lagna. Ma è normale trovare dei pezzi meno all'altezza rispetto ad altri, persino Kikuchi compose delle musiche blande, come quelle del tredicesimo film, o Melense come il tema di Gohan piangente. Ma di nuovo, è perfettamente normale, tutti sbagliano. Sumitomo ultimamente sporna delle musiche, una più bella dell'altra, meriterebbe più considerazione, secondo me. Episodio 4 Missione Spera del Drago Il grande piano della banda di Pilaf Il primo di Seisotoma, ma parleremo dei disegni dell'animazione dopo, perché voglio prima parlare dell'episodio in sé. Leggete il titolo, un episodio su Pilaf, quel nanerottolo che ha fatto una sola cosa importante in tutte le serie, cioè liberare Piccolo da quella specie di contenitore in cui era rinchiuso. Ma per il resto, è un personaggio ridicolo, inutile e rompicoglioni. Infatti, senza le sue stronzate, Dragon Ball GT non esisterebbe, e il mondo sarebbe un posto migliore. Ma questa è un'altra storia. E nonostante tale premessa, due anni fa decisi di guardarlo lo stesso, il ricordo di essermi annoiato a morte, perché francamente non me ne frega un cacchio delle loro stupidate. Avrei preferito vedere le interazioni tra gli altri personaggi, così sarebbe stato un episodio più interessante. E a proposito di personaggi, questa scena ricorrente di Bulma che usa la violenza per far ridere, come posso dire? Non far ridere manco per il cazzo! Smettetela di propinarci questa gag! Non far ridere! È solo stupida! Così come la violenza su Oolong durante i tornei di arti marziali non ha mai fatto ridere! Basta! È pur sempre violenza sugli animali! Che cazzo! Comunque neanche le parti senza Pilaf sono un granché. Forse è giusto quelle con Virus e Waze si salvano, ma non basta. Episodio da tre e mezzo, non mi è piaciuto affatto. Invece i disegni sono molto interessanti, ed è sicuramente l'episodio in cui spicca di più lo stile autentico di Seisotoma. Buone espressioni facciali, accentuate anche da linee di contorno molto spesse, comprese quelle degli occhi e delle ciglia nei personaggi femminili. Ovviamente alcune scene sono ricorrette da Miyako Suji, il cui stile ha lineamenti rotondi che forse stonano con l'approccio di Toma. È un po' un peccato che non sia riuscito a mantenere tali standard nei suoi lavori successivi, perché il suo approccio aveva potenziale. Menzione speciale per lo storyboard di Yashima, che non è male, ed è anche interessante a sprazzi, come nella scena della Kamehameha sul pianeta di Recaio. Sarebbe stata una scena piatta senza l'utilizzo delle diverse prospettive. Nel complesso, un design bello in un pessimo contesto. Temevo che sarebbe arrivato il momento, ed ecco a voi l'episodio 5, scontro al pianeta di Kaio, Goku contro Beerus il dio distruttore. Innanzitutto, una premessa. Quando vidi l'episodio due anni fa, ammetto di esserci rimasto molto male, a tal punto che smisi di guardare Super per un breve periodo, a causa del timore che tutti gli episodi futuri assomigliassero al quinto. E prima che commentiate, sì, due anni fa ero un ignorante e avevo pochissime conoscenze sull'animazione. Non che ora sia un guru, ma ci siamo capiti. Ma la cosa più strana fu la lettura dei crediti. Un nome tra tutti, Naoki Tate. Possibile. Lo stesso Naoki Tate che lavorò con Shimanuke Isada. Ma era davvero lui responsabile di tale crollo? Io non ci credevo, ma molti altri sì. Tant'è che molti articoli furono scritti a riguardo, ma non articoli dettagliati, informativi, che spiegavano il problema dell'episodio 5, no, no. Ma vere e proprie cagate che sparavano un mucchio di cazzate, del tipo, Tate da licenziare, la Toei non ha un soldo, gli animatori di adesso sono dei principianti. Già, infatti la Toei ingaggia i bambini, ecco spiegato il problema. Mica cazzate come la mancanza di tempo, no. Il vero motivo è che la Toei è guidata da paperon de paperoni e che se ne frega di pagare gli stipendi degli animatori. Potete paragonare tranquillamente un fotogramma di 20 anni fa con un frame intermedio. È un paragone perfettamente equo. Ora, stronzate a parte. A prescindere che tutti i suddetti articoli non abbiano analizzato cosa non va con la produzione di Super, questo episodio ha senza dubbio molti difetti. Soprattutto nella prima parte. Purtroppo a causa di una fallace programmazione l'episodio è realizzato in maniera molto sbrigativa e Tate ha potuto effettuare poche correzioni. Di conseguenza la Toei decise che tali frame brutti sarebbero stati corretti nella versione Blu-ray, in questo caso da Tate stesso e da Ide. Ma devo essere onesto, l'episodio 5 non è così terribile come vogliono farci credere. Come ho già detto ha diverse pecche, ma con le correzioni non è così malvagio. Più che altro la prima parte è indiscutibilmente la peggiore perché l'animazione è poco organica e anche un po' semplicistica, ma fuori dalla lotta i disegni non sono poi così terribili grazie alle correzioni di Ide. Inoltre possiamo pure notare lo stile di Kenosuka che rispetta i modelli di Yamamuro abbastanza bene. Invece la seconda parte è decisamente più forte, pur essendo comunque esplicativa, ed è anche un passo avanti in termini d'animazione con l'intervento dei due animatori principali dell'episodio, Kenosuka e Naokitate, la cui presenza è molto più significativa in questa metà. Per quanto concerne Otsuka, è uno dei top animatori della Toei, principalmente conosciuto per i suoi effetti visivi e anche per l'uso di inquadrature angolari. Infatti è responsabile dell'highlight della puntata, gli attacchi del Super Saiyan di terzo livello producono un grande impatto e l'utilizzo di diverse inquadrature durante la Kamehameha è una genialata, da un senso di dinamismo in più alla scena. Anche Naokitate ha contribuito all'animazione di diversi segmenti in questa parte e, malgrado siano palesemente esbrigativi, presentano una certa fluidità. Almeno qui c'è un'idea di animazione. La versione Blu-ray ha aggiunto dell'ombreggiatura in più in alcuni screenshot e Ide ha anche corretto qualche eccessiva libertà di troppo. Ciò nonostante, è stato un lavoro di correzione leggermente meno impegnativo rispetto alla prima parte. In termini di contenuti, l'episodio non è neanche così malvagio. Se ci fossero stati meno errori, non avrebbero influito sulla mia valutazione finale. Invece ci sono diversi problemi, come dei frame di mezzo rivedibili, che a tratti sono un po' disturbanti. E mi dispiace, perché questa versione dello scontro tra Goku e Beerus l'ho trovata migliore di quella del film. Certo, il film non aveva i difetti di produzione di Super e disponeva di uno storyboard migliore, ma la lotta era davvero soporifera. Goku che viene ridicolizzato da Beerus nello stato di Super Saiyan di terzo livello. E basta. Almeno qui lo vediamo combattere con tre trasformazioni diverse, il che si adatta di più al carattere di Goku. Di nuovo, con un risultato diverso, sarebbe un episodio decisamente migliore. Il mio voto è un 6. Non è così orrendo, ma non è un granché. Episodio 6. Non provocare il dio della distruzione. Una festa di compleanno da Cardiopalma. Il primo ad avere più di un supervisore di animazione. Ed è anche il primo di Shuichiro Manabe, con Tatsuya Oka e Irokatsu Maruyama. Manabe è sicuramente uno dei top supervisori di questa serie, e ha uno stile angolare, aggressivo e particolare. Purtroppo i suoi episodi iniziali non hanno la stessa identità di quelli attuali, perché il suo stile appare molto di rado. Ed è esattamente il problema principale qui. Non c'è una vera e propria supervisione. Una volta c'è un facsimile di Yamamuro, una volta Miyako Suji, un'altra Oka. E a proposito di quest'ultimo, ha controllato solo tre episodi in coppia con Manabe, ma attualmente lavora più come animatore. E francamente non sono un estimatore dei suoi disegni. Non mi piace come disegna gli occhi e soprattutto le orecchie. Credo siano persino peggio di quelle di Takeuchi. Comunque, nonostante l'assenza di una supervisione, l'episodio non ha la stessa quantità di difetti del precedente, e presenta anche delle visuali molto interessanti, grazie allo storyboard di Morio Atano. Il senso della misura e delle proporzioni è rispettato alla perfezione, e i momenti di tensione sono ben rappresentati. La trama non è neanche così male, ovviamente è un rifacimento delle vicende del film, ma non mi dispiace come versione. La scena della polpetta col wasabi mi fa morire, e ho apprezzato tanto che non abbiano riportato il balletto del bingo. Meno male, quella scena è una vogliata. Molti penseranno che Vegeta che cucina un polpo sia un insulto al personaggio, ma è sempre meglio del bingo. Quello sì che era un insulto. L'episodio è da 7, a qualche difetto come il dare importanza alla banda di Pilaf, per favore evitate, ma non è male nel complesso. Episodio 7, La mia bulma, come hai osato, la furiosa trasformazione di Vegeta. Supervisione di Yukihiro Kitano. E a partire da questo episodio, cominciamo a saperne di più su chi sia Kitano in realtà. Attraverso soprattutto la sua animazione, in quanto gran parte dei combattimenti qui è opera sua, come Gotenks contro Beerus e Piccolo, C-18 e Ten contro Beerus. E onestamente c'è poco da commentare. Non è un grande animatore, ma il suo lavoro qui è passabile. I movimenti risultano rigidi e a tratti anche conservativi. Anche i disegni sono decenti, soprattutto per merito delle correzioni di Takeoide, anche se le figure svilenche di Kitano appaiono più volte durante l'episodio. Ovviamente l'highlight è la scena dello sclero di Vegeta dopo che Beerus schiaffeggia la sua bulma. Ho già spiegato in passato che per quanto le sue espressioni facciali siano esagerate, l'ho trovata superiore alla versione del film, in cui Vegeta si trasforma in un Super Saiyan di secondo livello, senza particolari tormenti emotivi. In questo caso l'esagerazione funziona, perché dà l'idea di un personaggio effettivamente incacchiato. Non sto dicendo che sia una scena eccezionale, ma neanche mi dispiace. Anzi, dobbiamo considerare che senza le correzioni di Ide non voglio nemmeno immaginare come apparirebbe la sua faccia, soprattutto conoscendo i problemi di tempo di Kitano. L'episodio in sé non è neanche male, presenta anche degli spunti interessanti, come Dende che si caga addosso quando scopre l'identità di Beerus, parte involontariamente divertente, ma che ha un suo valore grazie allo storyboard di Shida e anche grazie al soundtrack di Infinite Universe di Sumitomo, che sentiamo in Super solo due volte. La prima in questa scena, mentre la seconda 103 episodi dopo, quando Whis spiega come Goku ha ottenuto l'ultraistinto. Voto complessivo, un 7. Decente, ma niente di così eccezionale.